L'intera città è ormai pronta a insorgere. Almeno abbatteremo Ray Washington. Credevo ciecamente in lui quando combatteva gli inglesi. Chi l'avrebbe mai detto? Ora farei qualunque cosa pur di rovesciarlo. È tutto pronto per quando darò il segnale? Ho un uomo al distretto militare. Saprà quali sono i punti deboli. Daremo il segnale d'inizio della rivolta e faremo saltare il loro deposito in un colpo solo. Grazie di tradimento contro il re e il paese. Questi uomini sono stati condannati a morte mediante mutilazione. Facciamo il primo. Pronti? Mirate! Fuoco! 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 Grazie a tutti 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 Trovate i ribelli Al fuoco C'è qualcuno lì dentro? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti